C'è una bella promozione su BitGet ragazzi, se vi iscrivete al sito e fate trading o copy trading su BitGet e fate un deposito entro il 30 novembre fino a 1000 dollari avete il 10% in bonus per fare trading se depositate 1000 dollari avete il 10% quindi avete 100 dollari esattamente 7 giorni dopo quindi il 7 dicembre perché la promozione è valida fino al 30 novembre quindi tutti quelli che si iscriveranno con il mio link avranno praticamente il 10% di quello che depositeranno dopo 7 giorni il 7 dicembre quindi se mettete 1000 dollari avete 100 dollari che non sono soldi che potete prelevare ma è un bonus per fare trading o copy trading su BitGet la piattaforma che io utilizzo per fare copy trading e che mi sta dando tante soddisfazioni adesso vi faccio vedere anche ieri abbiamo guadagnato quindi potete usare questi 100 dollari se depositate 1000 dollari avete il 10% e 100 dollari li potete utilizzare per fare copy trading per esempio e guadagnare una volta che avete guadagnato quelli sono soldi che poi potete prelevare ovviamente se depositate 300 dollari il bonus è di 30 dollari e il 10% l'offerta è valida fino al 30 novembre quindi andate nel link iscrivetevi a BitGet in descrizione non solo trovate il link per iscrivervi a BitGet avete anche uno sconto del 15% sulle fee se vi iscrivete adesso entro il 30 novembre e in più avete il bonus del 10% sul deposito che fate e il bonus lo avete 7 giorni dopo quindi il 7 dicembre ma non trovate solo il link per avere queste promozioni lo sconto sulle fee e l'offerta ma avete anche i miei video vi ho messo il video tutorial su come aprire il conto su BitGet come mettere i soldi come fare il deposito come fare copy trading ci sono i video in cui vi faccio vedere come sto guadagnando la mia strategia c'è un corso gratuito sul copy trading c'è un video sugli errori da non fare sul copy trading ci sono praticamente c'è tutto il video che è uscito ieri molto interessante su come settare il trader in modo da andare in profitto ovviamente non sono consigli finanziari fate le vostre ricerche in descrizione avete tutti i video anche per approfondire ma fate tutte le vostre ricerche sul copy trading non sono consigli finanziari io vi sto portando la mia testimonianza e poi trovate il link per iscrivervi se volete approfittare dello sconto del 15% sulle fee e poi anche del bonus fino a 1000€ se depositate fino a 1000€ potete avere il 10% di quello che avete depositato quindi nel caso di 1000$ avete il 10% cioè 100$ gratis il 7 dicembre che potete utilizzare per fare copy trading a proposito di copy trading guardate ieri c'eravamo lasciati a 2319 Django Fit ha aperto delle operazioni e siamo a 2495 USDT chi mi segue lo sa praticamente sono partito con 200 USDT se volete continuare a seguirmi e a vedere come si evolve diciamo il mio copy trading se continuerò a guadagnare o verrà il giorno in cui perderò tutto e vi ricordo appunto di documentarvi che diciamo il capitale è sempre a rischio studiate documentatevi in descrizione potete guardare tutti i miei video documentatevi anche da altre fonti prima di mettere mano ai vostri soldi ok perché questi non sono consigli finanziari quindi se volete vedere come va a finire iscrivetevi al mio canale perché farò altri video in cui vi dirò appunto e vi terrò aggiornati sui guadagni o sulle perdite quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e andatevi a vedere anche i vecchi video io sono Michele Varaglino per chi non mi conosce faccio business online dalla fine del 2016 e ho aperto questo canale YouTube per condividere la mia esperienza lato business, investimenti, come fare soldi su internet, come guadagnare online, come creare un business online quindi se vi interessano questi argomenti iscrivetevi non dimenticatevi di iscrivervi e supportare la mia attività allora qualcuno mi aveva chiesto anche nei commenti facci vedere l'operatività del trader allora adesso vi faccio vedere tutte le operazioni che ha aperto che mi ha fatto copiare ecco qua sono su cronologia ok queste sono le operazioni di ieri quindi se volete sapere come fare copy trading, come funziona c'è il mio video tutorial, in descrizione trovate tutto magari vi metto qualche video anche nelle schede ma ho fatto già tanti video su come fare copy trading la mia strategia, il tutorial pratico sulle questioni tecniche come mettere i soldi, come seguire, come impostare il trader come destinare il budget trovate tutti i video in descrizione lui praticamente lo seguo da più di 20 giorni e è andato sempre in profitto ragazzi ieri ha aperto leva 40 di solito apre leva 30 e opera principalmente su bitcoin e ethereum il trader che copio è Django Fit è diventato già una leggenda però è al momento occupato però seguitemi, iscrivetevi al canale perché farò un video sui migliori trader magari italiani presenti su bitgate da seguire quindi iscrivetevi al canale qui abbiamo altre operazioni vedete 23%, 12%, 13% ha fatto una marea di operazioni tutte in profitto io non metto stop loss lascio fare a lui ecco qui, l'unica operazione che ha chiuso in negativo è questa il 28 ottobre meno 7,79% per il resto è sempre andato in profitto è importante trovare il trader giusto ecco queste sono le ultime abbiamo iniziato il 20 ottobre siamo all'8 novembre quindi 20,11 giorni 19, no da 20 a 31 sono 11,12 giorni 20 giorni oggi è 8 novembre, 20,21 giorni quindi vi ricordo la promozione se vi interessa capire come ho fatto a ottenere questi risultati in descrizione trovate tutti i link dei miei video potete approfondire guardare i tutorial la mia strategia gli errori da non commettere per bruciare il conto video veramente interessanti e poi se volete iscrivervi fatelo adesso sfruttate la promozione vi iscrivete avete il 15% di sconto sulle fee ok fino al 30 novembre perché di solito lo sconto è del 10% ma se vi iscrivete entro il 30 novembre avete il 15% di sconto sulle fee cioè su quello sulle commissioni che costa mettere e aprire posizioni su Bitget come su qualsiasi broker quindi avete il 15% di sconto sulle fee e poi avete un bonus del 10% sul vostro deposito fino a 1000 euro se depositate 1000 euro avete 100 dollari da utilizzare per fare copy trading o trading ma noi facciamo copy trading perché non siamo dei trader professionisti però se qualcuno di voi è un trader vuole sfruttare questo bonus link in descrizione vi iscrivete a Bitget avete il 10% di bonus sul primo deposito e il 15% di sconto sulle fee fino al 30 novembre se vi iscrivete fino al 30 novembre la promozione dura fino al 30 novembre iscrivetevi a questo canale se volete sapere come andrà a finire la mia esperienza con il copy trading e fatemi sapere come sta andando la vostra esperienza e vi aspetto nei commenti grazie a tutti noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao